Sì, grazie Presidente. Noi come Movimento 5 Stelle voteremo contro. Dal 2009 per sei anni la Regione Toscana ha permesso un nuovo consumo di suolo in questo territorio. Vi invito a riflettere su alcune parole del Presidente Rossi Enrico del 29 ottobre 2014, che leggo, dice il Presidente Rossi Mi meraviglia la capacità che hanno in tante città europee di procedere al riuso di interi comparti, anche con funzioni sociali e abitative, senza per forza andare a realizzare supermercati, mentre da noi tutto questo è frenato. L'Italia è il Paese che consuma più territorio degli altri Paesi europei e chiude il suo intervento, riferimento alla legge 65, dice La congiuntura è quella per cui non ferve una grande attività edilizia, perché c'è la crisi da un lato e perché veniamo da un ventennio, e forse ancora di più, in cui la spinta all'edificazione e alle costruzioni è stata in tutto il Paese fortissima. Si è edificato a prescindere dagli effettivi bisogni sociali e abitativi della popolazione. Abbiamo anche un patrimonio di invenduto che tutto sommato ha reso più agevole la legge che ci apprestiamo ad andare a provare, la legge 65 che tutela il territorio. Dice ancora il Presidente, voglio anch'io sottolineare il fatto, ricordato i tanti interventi, che con questa legge vogliamo porre un freno alla crescita del consumo di suono. Enrico Rossi, Assessore Saccardi, dice nel 2014, praticamente si esprime dicendo che comprare case in vendute e fare alloggi popolari con l'acquisto di queste case vendute da parte della Regione Toscana, è una soluzione innovativa. Servirebbe un bando pubblico, che poi non abbiamo ancora compreso se è stato fatto oppure no, e comunque anche l'intervento della Saccardi con questa iniziativa promessa nel 2014, ci andava nella direzione di tutelare il suolo toscano. Un dato, sono più di 540 mila le case in vendita in Italia, il 26% sono di nuova costruzione, c'è un mercato immobiliare fermo, affaticato da compravendite a ribasso, l'offerta residenziale pesa su bilanci delle famiglie e delle imprese edile che faticano a trovare acquirenti. Noi che facciamo? Andiamo ad aumentare l'offerta. E' chiaro che non si costruiscono nuovi capannoni, non stiamo parlando di questo, ma anche quei piccoli ampliamenti previsti da questa legge vanno nella direzione di autorizzare ulteriore consumo di suolo toscano. Quindi noi voteremo contro.